Siuuuum! Completato, versione flashback di quando ero ragazzino Io me lo ricordo come se fosse ieri qua che esultava Siuuuum! Siuuuum! Cristiano Ronaldo, voi ragazzi non potete capire Io ho pianto ogni giorno dalla finale, dai quartieri di finale di Ronaldo Quando è stato eliminato e ho fatto vedere immagini di lui che piange negli spogliatori Lei mi ha visto piangere nel letto a caso perché vedevo le immagini di Ronaldo Va bene, 5 di mossa abilità, 4 di piedebole Consueto, alto-basso, quindi è solo in fase offensiva, in difesa non lo vedrete mai, 1,87m Ruole alternativi ne ha parecchi, AS, ES, AD, ATT Portogallo come club, Portogallo come paese, campionato FIFA World Cup 93 di accelerazione con 89 di velocità di scatto Quindi comunque corre decisamente di più dell'altra versione Dovrebbe essere molto molto veloce Preso e considerato che generalmente nelle altre versioni non correva tantissimo Ma correva solo grazie al lengthy Il tiro ha un posizionamento comunque validissimo Non ha il posizionamento sicuramente dell'altra versione Però comunque ha un posizionamento importante Ha 85 di finalizzazione Quindi non è che finalizzerà di mancino come l'altra versione E nel contempo non sarà un finalizzatore allucinante da ogni posizione sulla carta Poi come potenza di tiro abbiamo 85 Che pure è bene Comunque vuol dire che tira abbastanza forte Il tiro da distanza niente di che Poco effetto Passaggi abbastanza schersetti A livello di dribbling abbiamo un giocatore che ha un controllo buonissimo Un dribbling buonissimo Equilibrio molto meglio dell'altra versione Ma comunque niente di assurdo Buona agilità Ma ha una freddezza e una reattività che sono impressionanti Poi abbiamo un'elevazione decente Considerando che ha comunque l'animazione di Cristiano Ronaldo standard Di conseguenza staccherà Non dico quasi alla pari Ma quasi Ed è molto resistente Ora dobbiamo andarlo a provare Quindi lo inseriamo nella squadra E vediamo come si comporta Quindi come si comporta Cristiano Ronaldo in game Cristiano Ronaldo in game è incredibilmente veloce È velocissimo In termini di accelerazione si sente l'accelerazione La fisicità però sicuramente preclude alcuni tipi di movenze Perché rimane un giocatore molto molto fisico E di conseguenza per via del body type Perché è sicuramente una carta un pochino più pesante di altre Qualche movenza un pochino più appesantita nella corsa ce l'ha Ma non troppo A livello di dribbling è sicuramente un giocatore che è super agile Perché rispetto alle altre versioni che abbiamo quest'anno È sicuramente molto molto più agile Agilissimo Veramente si gira in un fazzoletto L'equilibrio migliorato di brutto pure È incredibilmente veloce Nell'esecuzione delle skill è pazzescamente rapida Rispetto ad ogni altra versione uscita In questa vi assicuro è pazzescamente rapida L'esecuzione delle skill Questa cosa è importantissima per un giocatore come Ronaldo Che ne ha 5 di sale skill Quindi molto molto bene Anche perché poi lui ha una lunga gittata con la gamba Prende comunque tanto spazio Ha un movimento molto ampio Quando deve fare le skill E unendo quindi il movimento ampio Alla sua agilità Fluidità in movimento Assieme ci dà un giocatore Che è davvero difficile da sostenere Quando fa una skill Poi a livello di dribbling Comunque ci mette il fisico È molto più agile È molto più freddo rispetto all'altra versione Quindi molto bene In termini di tiro È un giocatore che comunque segna tanto di destro È un grande finalizzatore di destro Veramente molto molto valido Di mancino un filo meno Tira comunque abbastanza forte Tira anche abbastanza bene a giro Tira abbastanza bene anche i pallonetti Non è tecnicamente a livello dell'altra versione Però comunque nel complesso Tira molto bene insomma Qualcosina lo sbaglia Si sente la differenza L'altra versione spacca la porta Da certe posizioni Oppure capita che comunque segna Situazioni dove sono più difficili per altri E io con questo Ronaldo Sono andato a cercare delle volte Situazioni dei tiri Che con l'altra versione Sarebbero stati assicurati Mentre con questa Purtroppo non lo erano In conseguenza ha sbagliato Ha sbagliato molti tiri A livello di passaggi Vabbè Schersetto Fa il giusto Però qualche filtrante imprevisto Qualche cosa imprevista Riesce a farla E a livello fisico Regge molto meno Rispetto all'altra Comunque anche qua Grazie alla sofficità Le boy boy Di appell'animazione Riesce un minimo A fare meglio A fare quasi come l'altra Ma nel complesso È fisicamente meno forte Comunque rimane forte di testa Stacca forse mi sembrava Addirittura staccasse di più Rispetto all'altra versione E fosse meglio di testa A livello di stile di intesa Questo Cristiano Ronaldo Io personalmente Lo utilizzo con finalizzatore Come avete visto Lo portiamo a 99 finalizzazioni Ma questa è la prova Che le statistiche Non fanno Il giocatore Sempre Perché comunque sia Abbiamo l'altro Cristiano Ronaldo Che io ho base Che ha meno finalizzazione Rispetto a 99 Perché questa qua La porta a 99 Ma comunque finalizza Meglio l'altra Decisamente Però Nel senso Questo penso sia un'obvietà A livello di dribbling E di migliora Agilità E equilibrio un pochino Che comunque nel complesso Riesce a renderlo Ancora un pochino Più agile Rispetto a già quanto è Di velocità Possiamo migliorare C'è anche l'alternativa Di giocare ovviamente Con cacciatore A altre situazioni Ma io direi Che sia su vecchia Che su nuova Lo giocherei con finalizzatore Poi come ruoli Io personalmente Lo utilizzerei attaccante Attaccante attacco 2 Mettendolo a destra Attaccante singolo È utilizzabile anche Come esterno sinistro Esterno destro Destro Se andate a incrociare Sinistro Se rientrate per tirare In tutti i due casi Comunque è bravo inserirsi Tagliare Farsi trovare in fase offensiva È molto bravo A costruire occasioni Fare scambi E mandare in porta Il compagno Ma come esterno Fate attenzione Che ovviamente Rientra pochissimo Avendo alto basso Quindi per me È un attaccante Però potenzialmente Può essere usato anche di là Mettiamoci poi Che questo Cristiano Ronaldo Ha un prezzo molto elevato Costa 493 mila crediti Di SBC Non scambiabile Abbiamo visto Che ha degli ruoli alternativi Interessanti Statistiche molto interessanti Perché come possiamo Paragonare qua Vediamo che Sicuramente è un downgrade Di tiro e di passaggio Ma è un big upgrade Di accelerazione In particolare Di agilità e equilibrio E in generale Nelle statistiche Del dribbling Perché rispetto a quelle Nel dribbling È decisamente migliorato In tutto Poi a livello fisico Perde tanto Perde di elevazione Di colpo di testa Ma la cosa Che a noi ci interessa Di più adesso Considerare anche È che il problema Più grande È che lui Ha solo due link Portogallo e Portogallo Perché avendo Come lega World Cup Lui Linka in sostanza Con i portoghesi Quindi vedete qua Ci sono tutti i portoghesi Quindi questi qua Che purtroppo Non saranno più utilizzabili Fra qualche altro giorno E poi linka E poi linka Ovviamente con i portoghesi In maniera generica Quindi abbiamo fatto Il calcolo E per linkarlo Praticamente Siamo costretti A mettere Almeno sei Di questi portoghesi Oppure bisogna Sfruttare almeno Delle icone Per ridurre Il numero Di giocatori Richiesti Quindi nel complesso Se dobbiamo Fare Una considerazione Completa Diciamo che La carta Secondo me È molto valida Ne vale la pena Non ne vale la pena Rispetto al costo E rispetto ai link I link e il costo Abbattono il livello Di questa carta Se questa carta Fosse stata al Manchester In Premier Valeva assolutamente Il prezzo Ma probabilmente Sarebbe uscita A un prezzo Ancora più caro Quindi secondo me Per come è La carta ci sta Ma non è una Carta da fare Assolutamente Ci sta solamente Perché è forte Se avete modo Di linkarlo Se siete fan O O generalmente Se avete soldi A buttare Usarlo come super sub Perché come carta È forte Ma Se dovete Impazzire Sottoracci una squadra Attorno Non so se impazzirei Per costruire Una squadra Attorno a questo Giocatore Io sono un fan Pazzesco di Cristiano Quindi sono felice Se è uscito Però purtroppo Questa carta Ha dei difetti Di link Ha dei difetti Di prezzo Che sono sicuramente Da considerare Beh a questo punto Fatemi sapere nei commenti Cosa hai pensato E noi ci vediamo Nel prossimo video Bella a tutti